Un importante convegno qui a Matera? Sì, un importante convegno dedicato sull'innovazione tecnologica e sull'utilizzo dei satelliti. Anche noi su Matera puntiamo sull'innovazione tecnologica, sapete bene quello che si sta facendo per quanto riguarda anche la sperimentazione del 5G, ma ci sono in campo altre azioni, tipo quello anche della Smart City.